Se ha un nemico da battere davanti quando ti trovi Equitalia, ma su questo tema... Ma esattamente... Quando trovano il grande evasore gli fanno gli sconti. Ma non lo so su questo! No, no, il problema è questo. Questa discussione storiale. Il problema grosso è questo. Quando trovi il grande evasore, che sia il calciatore, l'attore, lo sportivo, il motociclista, che evade milioni e milioni di euro, la prima cosa che gli dicono è tu hai evaso 20 milioni di euro? Ti facciamo lo sconto. Tu hai evaso 20 milioni di euro. Gli devi chiedere 20 milioni di euro. Non gli devi fare lo sconto. Perché al povero Cristo lo sconto non glielo fa nessuno. E anzi, gli tolgo la casa.